Siamo sulla Rainbow Gun Challenge di Fortnite ragazzi con Mattiz e Traster Una challenge veramente difficile ma che abbiamo portato a casa direi in una maniera impeccabile Mi sono tagliato i capelli da solo, fanno abbastanza ride ma la quarantena ci obbliga a fare anche questo Quindi ragazzi vi lascio il video, spero che vi piaccia, lasciate un mi piace e supportatevi come creatore lollo pollo se volete Benvenuti nella Rainbow Gun Challenge, obiettivo della sfida riuscire ad avere un loot fatto soltanto di armi di larità diversa Quindi bianche, verdi, blu, epiche, leggendarie ma questa volta abbiamo una nuova aggiunta Abbiamo le armi mitiche quindi una Rainbow Gun Challenge 2.0 Stiamo andando allo squalo perché uccidendo il boss dello squalo dovete sapere che possiamo beccare il rampino insieme allo scar In modo che lollo pollo si prende una delle due armi e io l'altra mitica E così iniziamo la challenge nel migliore dei modi Traster... Traster c'è, c'è però E io che prendo? Tu... tu gioca, l'importante è che non muori Ok Allora No, sangue di nuovo no No, 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 no Non mi può uscire sangue ora, bennetto Allora Hai trovato le scatole? Hai trovato le scatole? Sono morto No, non c'è credo Allora Lollo io ho già trovato un'arma miti Sì vabbè, ciao Un'arma rara, verde Vengo subito da te e c'è... Traster, per curiosità, chi ti ha atterrato? La loro retta è... Io lo sa, io ci avrei scommesso tutti i miei V-Bucks ragazzi No, non posso prendere quest'arma No Oh Ho ucciso il boss Lollo Stavo per morire da... Hai ucciso il boss? Sì Ah, mi stanno per ammazzare invece a me C'ho 64 di vita Mi stavo uccidendo anche a me lo scagnozzo Traster, tranquillo Sono un nabbo anch'io Proviamo a salvarlo Mi prendo lo scar Non posso prendere la mitraglietta verde Non posso prendere neanche questa E neanche il medikit posso avere... Mannaggia Come stai messo Lollo? Devo posare un'arma perché non ho una di troppo Ok Ok Ok, ok Io al momento ho blu, verde e oro Però mi faccio lo scudolo a 50 Anzi no, a questo punto me lo porto lo scudolo a 50 Non ne vale la pena utilizzarlo ora Boh, lutiamo la torretta Attenzione alla torretta No, non mi fa più la porta Obiettivo di oggi ovviamente riuscire ad avere le armi di tutte le rarità differenti E fare una vittoria reale La vedo un po' tosta ma Traster c'è quindi un po' di fortuna dovrebbe portarcela Vediamo un po' Ma c'è gente o sono scagnozzi? Scagnozzi, scagnozzi Dai, voglio la massima concentrazione Che essere riusciti a prendere già l'arma mitica e tanta 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 roba Ah, a proposito Io l'arma L'hai preso? Lo scar? Sì, sì, l'ho preso, l'ho preso Io ho preso anche una pistoletta bianca giusto per rafforzare il mio loot diversificato Ma ecco, non... Ehi, ma che vuole questo? Mori per favore Stavo per morire io Regà, ma sti cosi sono fortissimi Io vado ad aprire la cassaforte Ah, vero? Ok, mi hanno atterrato, non c'è credo Mi hanno atterrato uno scagnozzo Mi vergogno di fare questa challenge insieme al sommo thrusters Thrusters, perdonami per questa mia... Per questa mia, ecco, perdita di concentrazione Io sono incastrato Aspetta Eh, io sto per morire Sali dall'ascensore No, non lo trovo Cioè, sto sopra, ma... Sto sopra, sto scendendo ora Sto sopra di te Sto scendendo C'ho 30 di vita Truster, tutto bene? Sento degli spari Ce la fai da solo Ok Hai fatto una kill? No Ah Ha distrutto la torretta Ha distrutto la torretta Comunque, io vi dico la verità Per aver iniziato ora non sto messo manco male C'ho tre rarità di armi diverse Bianco, verde e mitico Vediamo un attimo ora qui Quante cose Ma quanta roba c'è Allora, mi faccio lo shieldino E ve li regalo tutti Che sono tantissimi E mi faccio uno shieldone Se avete delle bende Me le faccio volentieri È il momento di riorganizzare Il nostro loot, ragazzi Un'arma per ogni rarità Io al momento C'ho una pistoletta bianca Che è... Uh, epica Questa me la prendo La mitragliatrice Oh, quattro rarità diverse Di cui una pistoletta bianca Vabbè In realtà ora sto a cinque Ho completato tutto Ma c'ho una pistola bianca È completato? Sì Però C'ho due fucili assalto Non so se vale Eh, vale Però ecco Diciamo che non vale Contro nemici Che ti distruggeranno Se non hai un loot buono Come me Che ho una pistoletta bianca E la minigun Però vabbè Ti voglio bene Non mi serva niente Ma lo prendo solo Per creare il loot Più figo di tutti Regà Verde, blu Viola Leggendario E mitico Wow Cioè in realtà Non è il loot migliore Che io abbia mai avuto Perché se devo essere sincero C'ho un pompa Una mitraglietta E uno scar Non è che io abbia Chissà cosa Però Ma contento Dai Safe 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 Uiaiaiaiai No, 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 no Non l'avevo vista Via, via, via Fuga Prendete Prendete questo Venite, venite E si Parte No Mi sono castrato Ops Ma questo ramp Pino mi ferma È incredibile La potenza Di quello Sono passato Sul motoscafo Regà Ci siamo Siamo partiti Alla grande Questa Rainbow Gun Challenge 2.0 È fattibile Io non ho tanti No, materiali Sì, materiali zero Proprio in realtà Ma neanche le munizioni Sono molte Eh, neanche io Io ho Ho zero colpi Bene Alla grande L'ho detto Lo squalo È anticolpi Praticamente Grazie di avermi bloccato Se sbaglio strada Blocca mi col rampino Mi piace questa idea Oh Voglio una falola Ma dai Ma mi hai fermato in volo Volevo se volava Ma non penso che funzioni così Non lo so Traster Da adesso in poi Dato che io e Lollo Dobbiamo concentrarci Nel tenere le armi Oh Ma è bellissimo Concentrati nel prendere Più medikit Pesci Bende Cure possibili Ok Ok Lui balla Tranquillamente Sì La tua faccia mi dice Che hai capito Alla grande il messaggio Io andrei Mi fermerei tipo qui E a vedere Che cosa c'è di bello Magari riesco a sostituire La mini Con Tipo un cecchino viola Non lo so Non è mutato Uh jump 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 Me la prendo subito Lollo approfittiamo neanche Per fare materiali Grazie Doppia jump E dai così Te ne do una Vabbè magari può servire Infatti i vostri colpi Allora qui c'è uno scudo Traster Te l'ho pingato E qui invece trovo Non capisco se l'elicottero Viene da fuori casa Oppure dal gioco Oh oh Eccoli Oh mi spara Lo sparo Mi puscia Non riesco a colpire il nemico Oh l'ho colpito Ho ferito il nemico Stanno atterrando Eh l'ho visto Ok Uno atterra Dai no Non ci credo No che fail Non li vedo molto Oh Ma non è vero Mi ha preso la grande Eccolo Ok Scarm Mamma mia Lo scarmitico è qualcosa di troppo forte Davvero incredibile Allora Uso la minigun Se devo usarle tutte Le userò tutte Vado Mamma mia che kill che ho fatto Pazzesca No è morto traster È morto traster Eh Traster Non può morire traster Se muore traster Arrivo No ci so ci so ci so E qui dentro Uso la minigun Oddio ma non è vero questo Oddio ma non è vero questo Oddio ma non è vero con la minigun Oh Guarda l'ho finito i colpi Ho finito i colpi Oh mamma mia Oh mamma mia Queste sono le meravigliose che ci piacciono Mamma mia Io ho finito i colpi della minigun Mentre sparavo Vai rianimiamo in due Che c'è il doppio della velocità Questa la sapevi traster Ora la sa L'importante è quello Allora io Però così devo cambiare Eh Se adesso hai preso quella Vuol dire che devi sostituire la stessa di quella rarità Vabbè non so se hai capito però È una challenge molto particolare Questo io lo sostituisco volentieri Ho sostituito minigun viola con barret viola Questo sinceramente lo voglio cambiare Poi qua sopra io Avevo lasciato uno scudo alla fine Che nessuno forse ha più preso Eh Eh no no me lo faccio a sto punto Uh barret viola pure io Buono Dai 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 così Dai così Attenzione alla tempesta Uh cavolo Siamo di nuovo in ritardo C'è ancora l'elicottero Sì Ottimo Mamma mia Zero materiali Ho di nuovo zero materiali Ma è assurda sta cosa Non puoi scappare nulla Nulla di nulla di nulla Eh Se non li usi Traster ce li puoi anche regalare Non c'è problema Eh L'elicottero Sta bene Sta bene Forse Cioè Forse È un po' sto Eh non lo so Non ti vedo molto convinto È storto Sta Vola Safe 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 Eccolo Oh Stiamo entrando in endgame Con la rainbow gun challenge Io ho dieci colpi di mitraglietta Se dopo ne avete qualcuno in più Me lo prendo volentieri Ho tutte le rarità di armi diverse raga Ho anche un cecchino adesso E nulla mi può fermare Cioè Un lanciarazzi leggendario Da sostituire al vampa Ho fatto il loot perfetto Genta a sinistra Eh trust Me spari qualche benda Pur a me Sì Oh cazzo Mamma Ragazzi attento la cecchina Temposi Vai Ma non è qua La cecchina Temposi Sì Me l'ho preso Veramente 150 L'ho preso in volo So che magari questa cosa La farebbero in tanti Ma è la prima volta per me Per questo che sono Iper meca Cazzo In volo Lui ho tutto 150 Ma perché non l'ho ucciso Sarebbe stata la chi più bella Della mia vita Dai spunta Esci la testolina Sè Ecco Escila E lo prende 100 375 In testa Matti Vai Un'altra Io non so perché oggi sono capace A mirare col cecchino Ma questo non succede Dalla season 3 Del capitolo Quindi sono molto soddisfatto Di questo Ci sono delle scatole Trusters Ti puoi nascondere In una scatola Per l'endgame Non è una buona strategia Però tu sei capace Di farlo Quindi Mamma mia Non me l'aspettavo Di prenderlo Sull'elicottero Comunque Due cecchinate Belle precise E Non lo C'è Un regalo Gente Aspetta Ok li ho visti Lo sai che dobbiamo fare Ma ti è appunto Aspetta Colpito Ricarica Ah è vero Si hai ragione Ragione Attento che spara Ma non ha costruito più C'è andato uno Ma non ha costruito What Vieni vieni Traster Vieni vieni Eh vabbè Lascio lo scudo grande Ok Questi sono cattivi Sono cattivi Ma stanno sotto Quindi io lo cecchino E invece no Oh granate Granate Tolto 9 E' tolto no 9 30 Ok Uno anche lo eliminato Ok fatti fuori tutti Ma questi Non volevano proprio costruire Questi li vedevo un po' Tipo thraster Erano amici Allora io faccio Allora io faccio l'upgrade E innanzitutto mi prendo sta mitraglietta C'è una mitraglietta verde? Sì eccola Allora io guarda che faccio Mi prendo il pompa blu E tolgo la mitraglietta blu E mi prendo quella verde Sinceramente preferisco il pump Qualcosa? Eh no Gente No 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 Thraster Dov'è? Eh laggiù Ho sparato un colpo a caso Sta pushando E' una banana cattivissima E' sceso Lo sparo Lo liscio Attenzione che siamo alle battute finali Top 10 Eccolo Dove stanno? A 165 Qua Thraster pusha Attenzione Vai Facci vedere Ragazzi E' stato bello conoscervi Calmi tutti 100 in testa E ciao bananito Mamma mia che cattiveria Questo re dorato oggi Allora faccio un upgrade anch'io Prendo il pompa E cambio il fucile Ok perfetto C'è l'elicottero Sì Prendiamolo Ah sta volando in aria Eccolo Sì L'ho preso Ma uno è volato via Lo voglio colpire No ma si è suicidato questo No è in acqua In acqua In acqua Sì Proviamo ad andare a vedere dov'è Ma è un pazzo Che si è buttato in acqua così Ma ce n'è un altro secondo me Sull'elicottero No no forse no Era solo lui Ehm Nemico dove sei? Hmm O se n'è già andato dall'acqua Oppure Eccolo Sono in due Attenzione Eccolo 150 Oh ma sto cecchino C'è la calamita oggi Sto male però Attenzione che questi sono forti Bravissimo Lollo Per andare la mano 45 di vita Io 26 Questa cosa Non è molto rassicurante Headshot 37 in testa Arrivato l'aster con l'elicottero Vai trust Buono No chi è che c'è? Chi è? Sento la musica? Sì anch'io Ma Oh oh Il nemico è qui Eh non lo so Io se mi colpisce sono morto Eh anch'io Devo posare il fucile Aiuto C'è che ha qualche benda tipo? Io ce l'ho sparabende Vieni 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 Aiuto No 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 Basta Eh andiamolo ad attaccare in due Mi sono stancato Copriti sempre sopra Lollo Completiamo stare in bogan challenge Oh ce l'ho qui Ho superato Preso Preso Atterrato No Spacchiamogli le ricotte No niente Non ce l'abbiamo fatta Questo non lo lascio scappare ovviamente Anzi lo perquisisco pure Guarda Per divertirmi al massimo Ciao bello Dimmi dove il tuo amichetto Guardo spariamo C'è il medikit Ottimo bravo L'hai preso Se vuole che ce l'ho sparabende Ma è l'ultimo nemico? Eh si è buttato È l'ultimo nemico Allora mi faccio un attimo Gli sci No So Ho sbagliato Eh vabbè Brava safe Bravo grazie Eh Traster è stato bello conoscerti Ciao Addio No Che so Mi devo fare gli scidini Non ho vita Però ho scidini E ho perso l'arma verde io In questo momento purtroppo Io ho perso non sei Eh io pure ho fatto un mezzo casino Adesso sono rimasto Ok ho trovato un'altra arma verde Ragazzi la prendo ma non la uso È giusto per Giusto per fare scena Diciamo E completare la rainbow gun challenge Oh no 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 Aspetta che ora faccio così allora Sì sì Scusa 50 me lo bevo Ti prego non mi cecchinare Ti prego non mi cecchinare Ti prego non mi cecchinare Hai visto dove l'altro nemico lollo? Si stanno sparando tra di loro Sparato all'albero Ok grande Eh andiamo Dove? Sono andati loro Non lo so Più no Più in alto possibile Eeeh Do stai tu? Che ne so io Ah no 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 M'hanno preso Io non li avevo visti questi Di lollo Ma neanche io Ok ora Concentriamoci che qua La situazione critica C'hai uno sparabende No ce l'aveva Trasfer Eh me lo faccio Vai sostituisco pure il verde Così sono preciso preciso E questa rainbow potrebbe concludersi In un modo in aspetto Oh quasi quasi Cusciano Eh non sono veloce Quanto te con rampino Ok mi son coperto Ce l'ho da me Algo Eh ma lui sarebbe più veloce di me Ah Mi ha preso No pure me Eh vabbè Uno a terra Eh ora è un casino Lo ha atterrato Eh Uno lo ha atterrato Prova a venire da me Oddio Ma salite qua Io non lo so Come ho bucato E mi sono ritrovato il nemico sotto Eh ma va bene così E probabilmente Neanche lui ha capito Ciò che è successo Io mi porto gli shieldini E lascio l'arma verde Tanto non mi Safe Vai il più veloce possibile Preparo il buco No qua c'è la C'è la Ah ma dobbiamo andare da sta parte Ah c'ho la jump C'è l'emico E qui Preso Ci sono due nemici No Ho ucciso uno Mi hanno preso Ce n'è uno sopra Ah no Non è sopra Ah mi ha preso Pure io l'ho preso tanto Ok aspetta un attimo Devo Devo fare una cosa Ok No rega mi si è bloccato Vado io Vado io tanto Ok ci so Ci so ci so Ok vai Prova a fare una cosa Matti Per la patria Non ha funzionato Oh nemico C'è il nemico sotto Ok Concentrazione Ce la possiamo fare Sparo una cecchinata No è scappato Vai Carico il cecco E' solo lui vero Sì ma ho ucciso me Sessanta Doppi muro Scala Non scoppa Vai E io finisco Pure i colpi Finisco così Perché ho una mira a casa Io c'ho un medico Eh vabbè Eh Non ti conviene attaccarlo però Perché Eh sì Perché così mi frega Mi ha fregato Non riesco a salire Poi vi metto a scala Occhio così che te modifica Eh Non so che altro fare Aspetta Oh Sono un pazzo Vai È svenuto Dai Non posso dire altro Siamo dai pro Incredibili Ma la primo colpo poi L2 Quante chi l'ho fatta Sparo Io sei 8 uccisioni E non mi lamento Oh mio dio ragazzi Rainbow Gun Challenge Stravinta Ringrazio tutto il mondo E basta Cazzo Devo dire Siamo giocatori che si sono fatti uccidere Perché ci eravamo messi d'accordo In realtà Esatto Era tutta una finzione In realtà Era una partita pubblica Ringrazio Traster Che ci ha fatto vincere Come sempre la partita Grazie alla sua energia La sua potenza Il suo carisma Grazie all'Europolo Per aver partecipato E Grazie a tutti